Salvatore Rossini, ormai ci siamo, siamo per partire per il Brasile, c'è qualche mostro dietro la porta olimpico che ti fa paura? Il mostro potrebbe essere quello di essere in qualche modo schiacciati dal peso della competizione, però è un peso che avranno tutti gli atleti presenti, dovremmo essere bravi a convivere con questa paura. E a cercare di esprimere il meglio di noi stessi per goderci anche con delle belle vittorie, quello che sarà comunque un appuntamento straordinario. Al contrario ci sarà anche qualcosa, un paladino che avete a fianco, che avete nella testa e che vi possa aiutare nei momenti di difficoltà? Penso che tutto il contorno sia l'esaltazione per ogni sportivo, sia qualcosa di magnifico che tutti quanti vivremo con il sorriso e poi la forza di avere alle spalle e presente un gruppo che è comunque affiatato, è compatto e che non vede l'ora di far bene e di far restare la bandiera italiana sul podio. Grazie. Grazie. Grazie.